Giacomo Poluzzi, arrivi al Sutirol con quali propositi innanzitutto? Con un grande entusiasmo e con una grande ambizione. Sono orgoglioso di essere in questa realtà che mi ha voluto fortemente. Quindi sono carico per una stagione importante. Quali sono le tue caratteristiche? Le caratteristiche? Cerco di essere un portiere continuo, cercando di dare una mano alla squadra ogni domenica. Una carriera importante alle spalle, ce la vuoi raccontare? Ho fatto una bellissima esperienza in questi anni, coronata anche dal sogno di aver visto e toccato la Serie A da vicino. Anche se da terzo portiere. Penso di aver raggiunto una certa maturità e quindi cercherò di dare il mio contributo ai miei compagni e a tutta la squadra. Serie B e Serie A con la SPAL? Tu hai vissuto un po' la storia della nuova SPAL? Io la SPAL conoscevo anche la vecchia perché ho fatto tre anni alla Giacomense che era la stessa proprietà della SPAL. Quindi l'ho vissuto proprio sia la vecchia che la nuova, diciamo così, SPAL. È stata, come dicevo prima, un'esperienza importante, coronata dall'esordio in Serie A, che mi ha sicuramente riempito il mio bagaglio e poi ho fatto quest'ultimo anno a Francavilla nuovamente al sud che mi ha dato ancora più esperienza e oggi sono qui determinato e carichissimo. Come valuti l'ultima stagione? Surreale per molti aspetti. È stata una stagione particolarissima, sembrava di essere dentro un film, sinceramente non mi capacitavo e non ci credevo. Ora speriamo che le cose possano migliorare, che possiamo ripartire a fare le cose come eravamo abituati a fare, ovviamente con un'attenzione in più, però mi auguro che si possa tornare a settembre a riempire gli stadi e a poter tornare a una normalità. Cosa sai del Sud Tirol? Del Sud Tirol mi hanno parlato benissimo tutti, a partire da Rantier, Julien, che ha giocato qua, a tutte le persone che hanno avuto modo di conoscere questa realtà. Ho voluto fortemente venire qui perché so che si può lavorare bene, si può fare calcio e voglio assolutamente aggregarmi alla squadra, cominciare il prima possibile per iniziare questa avventura. Grazie. 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 Grazie.